Con il museo di ideologia abbiamo visto tante cose, mi hanno colpito i colori degli animali che sono rossi, neri, verdi e gialli. Per esempio, rana, luccetto, serpente, gritti, cimici sono verdi perché vivono sotto l'erba che è verde e loro si nascondono. Le cucinelli mi piacciono tanto perché sono rosse, danno avvertimento. Gli uccelli così non li mangiano. Gialli sono le pappere e mi piacciono tanto, mi piace il mondo. La pappera può vivere in acqua come nei laghi. Molto spesso andavo in un parco dove c'erano le anatre e io gli davo da mangiare, il pane. I genitori erano davanti, i pulcini dietro. Era una famiglia bellissima. Pensavo subito a mia madre e a mio padre. Io camminavo sempre dietro di loro. Mi è venuto in mente cosa vuol dire avere una famiglia bellissima. Mi è venuto in mente cosa vuol dire avere una famiglia bellissima. Grazie. Grazie. Grazie.